ANSA, Roma, 38, dalla norma che consente il tesseramento dei giovani stranieri non in regola con il permesso di soggiorno dopo un anno di scuola, definita norma TAM-TAM dal nome della squadra di basket di Castelvolturno, agli incentivi per la ristrutturazione degli impianti calcistici, dai fondi per favorire il vivaio di giovani promesse alla stretta nella definizione delle società sportive dilettantistiche. Sono le principali misure, tra cui anche un ridisegno delle quota dei diritti TV per le società di serie A, contenute nel testo definitivo della legge di stabilità in materia di sport, il cosiddetto pacchetto lotti.